E caccio agli indecisi del vaccino in campagna, la vera sfida è quella dei giovanissimi, infatti la percentuale dei vaccinati arriva nel napoletano al 46,8%, una cifra che incoraggia rispetto al grande flop iniziale tra i under 30, ma che comunque non è abbastanza. Sullo sfondo l'annuncio del governatore De Luca che parla della linea del rigore per il ritorno a scuola, scuole chiuse finché tutti i ragazzi non saranno vaccinati, ha detto il presidente, una dichiarazione che ha scatenato l'ira dei comitati e del Kodakons, che parlano di annunci antidemocratici e di un vero e proprio attacco al diritto allo studio. Diciamo no a ricatti e condizionamenti che mettono a tacere e denigrano con la falsa e facile etichettatura di Novax, spiegano i referenti della rete nazionale Scuole in Presenza. Affermazioni quelle del governatore di una gravità inaudita, come spiega l'avvocato Matteo Marchetti del Kodakons Campania. Non si può subordinare l'apertura delle scuole alla vaccinazione dei ragazzi. Tutti i dati hanno dimostrato che i ragazzi possono contrarre il virus ma poi sarebbero asintomatici, quindi privi di sintomi, perché noi sappiamo che facendo queste dichiarazioni poi i singoli sindaci, come nel caso di Avellino, oppure singoli dirigenti scolastici, possono prendere decisioni avventate. Quindi noi abbiamo chiamato, avvertito, sia il Presidente Draghi che il Ministro della Pubblica Istruzione per intervenire e per far valere veramente i valori democratici in questa regione che si stanno affivolendo sempre più.